La grande opera torna protagonista al Teatro Comunale Giuseppe Verti di Buscoldo. Domenica andrà infatti in scena Ernani, melodramma in quattro parti del cigno di Busseto, uno speciale appuntamento che farà entrare nel vivo il cartellone della ventiquattresima stagione artistica. Questa meravigliosa opera risorgimentale del grande maestro di Busseto è stata scelta quest'anno per l'inaugurazione della stagione lirica. È un'opera meravigliosa dal punto di vista musicale, cineografico e soprattutto questo canto nuovo che il maestro Verdi ha inserito in quest'opera. È una novità assoluta per la nostra provincia e io spero che ci sia una grande attenzione verso questa esecuzione perché darà la possibilità ai appassionati del melodramma di seguire un'opera davvero straordinaria. Una messa in scena che riprenderà proprio la versione originale dell'opera, proposta per la prima volta il 9 marzo 1844 al Teatro La Finice di Venezia. La regia dell'evento sarà affidata a Giovanna Nocetti, mentre scene e costumi saranno cura dell'associazione Elena D'Angelo di Milano. L'esecuzione sarà affidata all'orchestra del Teatro Verdi, che accompagnerà i solisti ed il coro Opera House, diretti dal maestro Daniele Anselmi. Il costo del biglietto è di 25 euro, prezzo intero e 23 euro per il ridotto. Per info e per notazioni chiamare allo 0376 41 0008.